Speriamo per l'ultima volta, perché è quattro anni, è stato in conto di quattro anni sta legge Fornero. Sembra che il Parlamento abbia tempo di occuparsi di tutto, tranne anche di pensioni, di lavoro, esodati e legge Fornero. Speriamo che sia l'ultima volta, che veniamo qua, perché ci hanno rassicurato, avete ragione, troveremo i soldi, però dopo quattro anni ho ancora cambiato.